Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo make up tutorial, questa volta si tratta di una richiesta da parte di Cinzia Angela e spero di soddisfarla. Inizio applicando questo campioncino di fondotinta Deliver Rocher e come sempre lo applico con una spugnetta in lattice per avere un effetto più naturale e delicato. Applico poi il Camouflage Cream di Catrice nella zona delle occhiaie. Oggi poi ho particolarmente occhiaie quindi. Ho un super brufolozzo che vado a cercare di nascondere con il correttore verde di quella palettina di Douglas. Quindi lo tampono sul brufolo e ci ripasso poi sopra il Camouflage Cream. Applico il mio amato Instant Anti-Age della Maybelline nella zona delle occhiaie e dove voglio illuminare, quindi naso, orco di cupido e mento. E sfumo tutto quanto bene. Come sempre vado ad applicare il Premier Occhie della Essence e la Love Stage su tutta quanta la palpebra. Definisco bene le mie sovrazzia con la Natural Brow Designer della Benekos. Le pettino con l'apposito pettinino. E ora andiamo ad utilizzare l'Iconic 3 di Makeup Revolution, ovvero il dupe della Naked 3. Innanzitutto vado a stendere su tutta quanta la palpebra questa manita marrone di Kiko, la Double Glam, la numero 100, in modo tale da creare una base. Questa ragazza appunto mi ha richiesto uno smokey marrone. Applico su tutta la palpebra questo becciolino molto chiaro, in modo da creare una base piuttosto omogenea. Vado ad applicare poi questo marrone medio. E lo sfumo bene. Infine con un pennello da sfumatura vado ad applicare questo marrone più scuro, che dalla foto non rende dalla video, ma in realtà è molto più scuro di quello che sembra. Appunto mi era stato chiesto uno smokey marrone da realizzare con la Naked 3. La Naked 3 non ce l'ho, quindi ho avviato con lei. Nell'arcata sopraccigliare vado ad utilizzare un rosa, non proprio shimmer, diciamo satinato. Quasi tutto quanto il trucco comunque rimarrà molto opaco. Vado ad applicare la matita marrone di prima come fosse un eyeliner. E la applico anche nella rima interna. Con il pennellino ancora sporco di marrone la vado anche a sfumare guardando verso l'alto. E con la parte burro della stessa matita vado a creare un piccolo punto luce. Applico adesso il mascara Lush Base di Essence, che è appunto questo mascara bianco, che fa davvero un'ottima base per tutti quanti i tipi di mascara. E adesso sopra vado ad applicare il Lush Princess di Essence, che insieme a questa base fa davvero un effetto ciglia finta e stupendo. Questo qui è il risultato finale degli occhi. E ripeto, dalla video sembra più chiaro, ma in realtà è molto più scuro. Dalle foto che vedete al fine video, rende un po' di più. Prendo poi la cipria traslucida di Neve Cosmetics Hollywood e l'applico sotto la zona degli occhi, insomma per fissare il correttore e sui varie imperfezioni, infine su tutto quanto il viso. Utilizzo un bronzer opaco, questo della Sun Club, che si è anche un po' suicidato, e lo vado ad applicare con un pennello angolato. Utilizzo questo blush della collezione Camp to Town di Essence, è un bellissimo blush pescato in crema. Dà un effetto molto naturale, ma per fissarlo meglio vado a tamponarci sopra un blush della Mois, anche questo color pesca. Infine sulle labbra vado ad applicare la due baci di Neve Cosmetics nella colorazione incognito. Con la parte più piccolina vado a tracciare il contorno labbra e con l'altra parte ovviamente la vado a riempire. Questo qui è il look finito, ed è la mia proposta di Smoky Marrone con Naked 3 o Simil Naked 3. Spero che vi piaccia questo look piuttosto naturale rispetto ai miei solidi un po' più colorati. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, come sempre con un commento o un pollice in su. Ci vediamo al prossimo video, un bacio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!